notte rosa a fano buona la prima possiamo sicuramente dire una serata riuscita bene trascorsa senza incidenti di sorta e in sicurezza grazie alla sorveglianza delle forze dell'ordine e il divieto di utilizzare bottiglie e bicchieri di vetro ha dato sicuramente una mano così come il parcheggio dell'ex caserma aperto non stop da registrare anche nessuna emergenza sanitaria per eccessi di alcol cosa non da poco si è voluto unire le forze creando un evento straordinario che era già partito nell'emilia romagna e con questa parte di costa delle marche che va da gabice fino a senigalia diventa un altro valore aggiunto e soprattutto possiamo parlare a livello internazionale e nazionale perché questo ha avuto un lancio straordinario sui mass media quindi è diventato veramente è un'occasione per far conoscere anche la nostra città una serata trascorsa tra momenti comici all'anfiteatro rastad con il san costanzo show e le note dell'orchestra sinfonica rossini che ha inaugurato la corte sant'arcangelo in piazza 20 settembre i rinoceronti hanno animato con le loro note un centro storico poco coinvolto da questa prima notte rosa con negozi spenti e saracineschi giù con il pensiero più alla notte dei saldi gran finale a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico e l'animazione del lido la partecipazione è stata tanta anche dagli esergenti che ringrazio tutti perché sono dimostrati molto disponibili e hanno attivato delle belle cose quindi c'è voglia di passare del buon tempo mi pare che sia tutto in ordine che non ci siano fenomeni strani e quindi una bella serata